Sono le ciliegie le colture più danneggiate da questo maggio impazzito con troppa pioggia. Questo l'effetto che la pioggia ha fatto ai frutti. Praticamente l'acqua quando piove tanto entra all'interno del frutto e essendo questa una varietà che sono i duroni, quindi sono molto dure, anche l'epidermide è molto resistente, non è abbastanza elastico quindi il frutto tende a rompersi, a spaccarsi e non riesce a contenere tutta l'acqua. Oltre a un fattore estetico che ovviamente pochissime persone sceglierebbero una ciliegia rovinata rispetto ad una sana anche perché dopo una mezza giornata dalla raccolta si creerebbe uno strato di muffa nella spaccatura creata dalla pioggia quindi non potrebbe essere nemmeno più mangiata. Oltre al danno mi diceva anche la beffa, perché? Perché verranno raccolte lo stesso, perché nella pianta creerebbero infezioni e quindi farebbero del male alla pianta. Quando il frutticino marcisce praticamente trasmette questi batteri alla pianta e quindi rovinerebbe anche la pianta. Per alcune aziende il danno è del 100%, le misure che verranno chieste dalle associazioni di categoria sono quelle che potranno intervenire sul credito. Noi stiamo sensibilizzando la regione toscana per l'attivazione del riconoscimento dello stato di calamità naturali che prevede varie misure e penso che quella più attuabile, più indispensabile del momento sia proprio quella della possibilità di slittamento degli impegni economici per le aziende. Si parla di cambiali, si parla di lati di mutuo. Esiste l'attuazione di questa misura che consente alle aziende che non hanno purtroppo reddito in questo anno di poter far fronte ai propri impegni dall'anno successivo. Però deve essere la regione che le attiva. Grazie. Grazie. Grazie.